Non ci sarà posto per tutti i 50.000 iscritti e nemmeno per i 33.000 che frequentano regolarmente, ma lo scopo è riuscire ad averne in presenza almeno 10.000, un terzo. L'obiettivo è ricominciare quasi come prima, l'Università di Firenze sta organizzando le linee guida per una modalità mista. Lezioni in presenza per le matricole, attraverso un sistema di prenotazione del posto in aula, mentre sarà da compilare un questionario per far sapere all'Università entro il 2 settembre la propria intenzione di seguire dal vivo i corsi da parte di chi è iscritto agli anni successivi in modo da organizzare i turni. Inoltre, chi entrerà all'Università dovrà misurarsi la temperatura e sarà obbligatorio l'uso della mascherina con accessi sulla base di turni stabiliti. Per ragioni di sicurezza, gli orari di inizio e fine delle lezioni saranno diversificati in modo da evitare assembramenti in entrata e in uscita. I nuovi studenti, per potersi prenotare fino al raggiungimento della capienza massima dell'aula, tenendo conto del distanziamento, avranno subito il numero matricolare e la casella di posta elettronica Unifi, anche se, come spiega una nota dell'Ateneo, è importante avviare la procedura di immatricolazione prima dell'inizio delle lezioni. Tutte le lezioni saranno comunque videoregistrate e sarà possibile, nella maggior parte dei casi, seguirle in diretta, nell'orario fissato dal calendario didattico. Anche gli accessi a aule studio e biblioteche funzioneranno con il sistema delle prenotazioni. Infine, dal 1 settembre, riprenderanno gli esami di profitto e di laurea in presenza, ma solo previa esplicita richiesta degli studenti. E sempre lunedì partiranno i test sierologici gratuiti per il personale. Sono su base volontaria e al momento, fa sapere il Rettore Dei, ci sono già 1600 adesioni.